buongiorno buonasera il signor iaia lei è il primo piano ci può far entrare cortesemente e no a casa mia sia casa sua no perché ci hanno segnalato cosa sgradevole volevo che lei la smentisse ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere perché questo ce l'hanno detto dei cittadini hanno detto il giusto e sbagliato buongiorno buonasera io volevo entrare da lei ma no voglio riabilitare il buon nome della sua famiglia qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate e lei che scusi come non c'è nessuno e lei chiesto parlando con un fantasma mi scusi ah sì lei che è lei il padre o il figlio a papà e a lavorare quindi lei e il figlio no e lei chi è lei chi è lei che è e al quinto piano tocca salire tocca salire ma io ho buttato giù un'altra volta